La nuova puntata di Laghi e Monti dalla Sagra del Fungo di Trontano, è un appuntamento ormai tradizionale sul finire dell'estate, quello in ossola con il re del bosco, è cucina, ottima cucina, risotto ai funghi in testa ma è anche tanto altro divertimento, musica, voglia di stare insieme e poi le mostre. Sono due quelle allestite per l'occasione, una dedicata a una famiglia storica di Trontano e l'altra, la tradizionale, mostra micologica per scoprire qualcosa in più proprio sui funghi e poi scoperta del territorio perché Laghi e Monti vi porterà anche a scoprire proprio questo bellissimo paese, i suoi angoli più caratteristici e alcuni luoghi che ci riportano indietro nel tempo. Laghi e Monti vi aspetta come sempre la domenica alle 13.30 alle 19 e alle 23 su VCO Azzurra TV, vi anticipo che con me ci sarà anche Marcello Perugini e ci sarà anche Peggy, allora vi aspetto non mancate e ricordatevi anche di seguirci sempre sui nostri social e su vcoazzurratv.it, sezione turismo dove trovate tutte le nostre puntate.